Perché adesso loro tre dovranno scegliere una coppia di voi donne che vivrà con loro in Tugurio. Adesso voi uomini state vedendo attraverso il vostro led le quattro coppie di donne. Scegliete adesso una coppia che sta con voi in Tugurio in questi giorni. Avete solo 30 secondi di tempo, mettetevi d'accordo, tra voi parlate pure a voce alta. Mi basta male da Anita e dalla ragazza di Riccione. Anita, però c'è questa che è con questa. Giselda e Rosi, Angelica e Letizia, Samira e Anita, Gressia e Berlino. O Samira e Anita, decidiamo, o queste due. Così impara non me. Bravo Giuseppe. Allora fai una cosa, Giuseppe è il vostro portavoce. O Anita e Samira perché vedi questa Anita mi doveva nominare a me che sono giuseppe Garibaldi, invece non mi ha nominato. E ora mi da pulire pure lei. Non so niente, non so niente, non so niente. Ma ti senti? Tempo scaduto, allora portavoce Garibaldi, chi avete, chi nominate? Nomino Anita, nominiamo scusa, è Samira. Anita e Samira, come mai Garibaldi? Grazie. 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 Grazie.